Ieri pomeriggio presso la piscina New A2R Aquatic Nuoto di Campania si è svolto il primo incontro per attività di pairing al fine di consentire ai bambini coinvolti di conoscere gli istruttori di kayak e le regole base nell'approcciarsi a tale disciplina sportiva creando le condizioni ideali per un'associazione positiva con operatori ed attività. Facendo seguito agli incontri formativi ottobre-dicembre 2018 e agli incontri programmatici e organizzativi precedentemente svolti gennaio-marzo 2019, tale incontro sancisce l'inizio del percorso strutturato che prevede attività di pairing in piscina, due incontri, e attività pratica di kayak in ambiente marino, quattro incontri. Tale percorso condiviso utilizzando sempre un approccio bottom-up è il risultato della collaborazione costante tra il Circolo Canottieri di Agropoli, Cooperativa Sociale Il Tulipano Cilento For All e il Dipartimento di Scienze Motorie del Benessere dell'Università di Napoli Partenope, nonché i rappresentanti di alcune associazioni di genitori, quali Autismo Fuori dal Silenzio e Famiglie in Rete. A seguire da vicino i bambini sono stati il direttore sportivo del Circolo Canottieri di Agropoli, Leopoldo Catena, il presidente di Cilento For All, Giovanni Minucci, e Paolo Sarra per le Famiglie in Rete e Autismo Fuori dal Silenzio. È stato un vero successo in quanto alcuni ragazzi sono già riusciti ad essere autonomi in kayak, ha commentato Catena. Dopo soltanto pochissimo tempo in cui ci siamo cimentati ad impartire lezioni di equilibrio e di pagaiata, i ragazzi hanno compreso alla perfezione il gesto atletico ed hanno pagaiato da soli. Questo rappresenta una pietra miliare nel raggiungimento dello scopo del nostro progetto pilota. Siamo veramente soddisfatti.